A Medeo d'Aosta, Conteso Savoia nel cognome, se ne va dalla provincia d'Arezzo dove da quanti anni, cinquantina d'anni che è qua, e lasciando nello sconforto anche tutti noi penso, perché io stanotte sinceramente avrò difficoltà a prendere. Non è che non mi ero neanche accorta che c'era il Duca d'Aosta, a me non mi frega niente, né se resta né se va, non è che sia stato un personaggio che abbia dato qualificato in qualche modo economicamente o altro nella nostra realtà. Io ricordo da universitario sui Savoia girava una bellissima rima, se vuoi te la ridico, come sai che Savoia da Torino si spostarono a Firenze e poi videro che non era il caso, andarono a Roma, allora si diceva piange Torino perché il prence parte, sorride Roma perché il prence arriva, Firenze città culla dell'arte va in culo al prence, quando arriva e quando arriva. I toscani sono sempre così. L'irrivenenza toscana che però rispecchia anche il mio, anche il mio ti devo dire la verità. Benché ti devo dire che Emanuele Filiberto mi è fortemente simpatico, poi fa parte dello stesso management che frequento io, quindi è entusiasta del mio spinello. Sì, lo credo, mi fa piacere. Molti VIP fanno altri tipi di spinelli. Sì, lo vuoi si fa. Andiamo alle urne. Sì, a... L'astenzione farà boom. Sì, sicuramente, perché la gente non sa che cosa votare, anche perché non ha più fiducia in nessuno. Strana anche questa. identiche cose, identiche cose che ci tolgono tutte le tasse, ci tolgono l'Imo, non ci fanno pagare più niente e quindi ovviamente la gente non crede più, rubano da tutte le parti, centro, destra e sinistra. Poi non è che rubo un poco, insomma, se danno un maligno da fare. Monticella Bersani, così gli va male. Così gli va male, appunto, lo tiene in figura. Questo è il tuo, Montezemo l'attacca ai populismi. Non offrono risposte ai problemi. Sì, può darsi anche che abbia ragione. Che intende per populismo? Populismo significa criticare e basta, come fa Grillo. Va criticato, ma bisogna fare anche delle proposte concrete. In effetti Grillo è simpatico, a me anche mi diverte quando lo ascolto, però critica e basta senza portare delle proposte. Grillo cavalca la stanchezza della gente. Infatti, infatti molti, poteranno lui. Cioè, perché cosa quando sei stanco arriva a Grillo? Cioè, non ti diverte neanche. No, sei stanco, sei stanco. Villoresi con la politica, non so manco via. Questa chi è? Boh, andandola tirata fuori. Villoresi. Ah, questa mi piace. Famiglia Cristiana fa una domanda, alla quale potete rispondere anche voi. Questo Mahoni, che è l'arcivesco di Boston. Ah, sì, sì, quello americano. Sì, di Boston, credo, credo. E' degno del conclave. E direi proprio di no. Perché, no, sondaggio, facciamo un sondaggio. Lei dice di no. Il conclave Pignoni. Allora, perché lui praticamente ha coperto, non nel senso che ha avuto i cuccioli, ma ha coperto 21 casi di perofilia. Vergogna, vergogna. Però ha dichiarato, io l'ho sentito la dichiarazione importante, ha detto, i preti fondamentalmente, quando i ragazzi vanno in chiesa, gli fanno vedere la cappella, anche per farsi rendere conto di dove sono, no? Sì, sì, certo. Forse c'è stato un malinteso, sicuramente, se non si sono capiti. Poi, tra l'altro, uno di questi si è confessato, ha detto, padre ha confessato, ha sodomizzato un bambino. Vergogna. E lui gli ha detto, hai anche bestemmiato, dice, quello no, strano, non ne sta mai fermi. Oddio, sì. Lei ho andato avanti, te la morditti. Risposto, Pistorius. Questo è un pazzo scatenato. Pistorius. Dai, Pistorius. Sembrava in gamba. Stamattina, che lena. Sì, due gambe. Sembrava in gamba. Gambissima, sono d'accordo. Oggi c'è l'interrogatorio. Sì, questo l'ha ammazzata lui. Gli hanno trovato, come ha detto Margherita, che ha detto, gli hanno trovato l'asteroide in casa. Pensavo a facerlo. Gli steroidi. Gli steroidi. Che dice che aumentano l'aggressività. L'aggressività. Quindi già che deve essere aggressivo, per conto suo, mettigli anche l'asteroide sopra e quindi è un disastro. Aggressivo, questa donna, perché te non sai, Pistorius, perché era mancante delle gambe. Oddio, che dice ora? Che dice? Gli ha fatto girare con gli occhi. Ma si scherza, si scherza. Però c'ho noto che questo è un disgraziato. Ha fatto il passo più lungo della gamba. Scusa, della gamba è ammazzato questa disgraziata. Farina, piccinino. Ora il problema è trovargli il tallone da chiede. Sì, appuntagli. Il problema è trovargli anche il tallone. Quello ne ne trovi, no? Allora, in Margherita, che no? No, si è detto. Volevo chiudere con Arezzo. Vediamo che c'è. Con Arezzo. Prima di tutto... Ah, sai che volevo... Il turismo non decolla. Arezzo. Crescita a zero. Crescita a zero. E tanto che non decolla. Cioè, se vedi Napoli e poi mori. Mori è uguale. Vedi Buleval che ha fatto il sindaco Arezzo. Oddio, stai sempre a Buleval, questa è una cosa pietosa. Però voglio fare, c'è lo sport, voglio fare i complimenti al tuo marito che ha fatto il record. Ha detto, Soldini ha fatto il record. Ma che c'è tra i miei mariti? Ma il record di che? No, intendevo mica il Soldini che ha fatto il record della Transatlantic. E allora di che? E' il tuo marito che ti sopporto da tanto. È vero, è vero, è vero, il record di sopporto. Sono 32 anni che mi sopporto. Dagli, io gli darei una coppa. Un premio. Una coppa. Una coppa. In alternativa una soprassata. Anche. Anche. Anche che gli piace tanto. Ah no, sai che c'era? C'era. Che c'era? C'era una notizia da avvocato. Dimmi. Da avvocato che ti voglio fare leggere. Ecco qua. Partorisce e uccide la neonata gettandola in lavatrice. L'ho sentito, l'ho sentito al telegiornale ieri sera. Veramente è una follia pura questa, povera creatura. Uno stato serio, che li fa a una donna così? Bisognerebbe la mettesse in galera, perché questo è omicidio, quindi ha tutti gli effetti. Quindi bisognerebbe dargli 30 anni di carcere, questa è la mia opinione. Ma dato che 30 anni di carcere non danno a nessuno, perché dopo 10 anni con la buona condotta li mandano a spasso, probabilmente diranno che era depressa e tante altre cose, quindi la rimetteranno a piedi libero subito. Chi fa queste cose è assurdo, perché poteva benissimo darlo in adozione, che ci sono tante coppie che hanno desiderio di adottare dei bambini, quindi c'è bisogno di buttarlo in lavatrice. Possono andare in ospedale, partorire in assoluta riservatezza, non riconoscere il bambino e darlo subito in adozione. Va bene, finiamo di ridere via, a proposito di questi strumenti atti alla pulizia delle cose di casa, io saluto un amico mio che tra l'altro non ha capito l'uso di questi macchinari, è un poliziotto e essendo un piedi piatti se li lava sull'avastoviglio. Scusa, ma ti voglio dire una cosa, ma l'hai visto anche ieri il sindaco vestito da mandrache? Ancora? Anche ieri c'era una bella fotografia del primo piano con la tuba nel cavo. e dava le caramelle ai bambini. Un'altra volta. Io è sprecato, in Vaticano dovevo essere vestito da mandrache. Ciao. Da mandrache, il sindaco d'Arezzo è vestito da mandrache. Ripeto, quindi mi autoironizzo con me, sono le pretese di chi ci arriva, perché io da città ero un quintale e mi volevo vestire da zorro. Somma, era un po' dura. E c'era verso. E c'era verso. Sembrava un camion de concio. Appunto, arrivederci. Un'autoponte del faccinetto. Ciao, sì sì, arrivederci.